Credo di essere in diretta e anche di essere in orario, così mi sembra. Dopodiché adesso vediamo se c'è qualcuno collegato, aspettiamo qualche minuto per vedere se effettivamente c'è qualcuno che mi ascolta, che ascolta questa diretta. Vediamo un po'. C'è Anna che mi dice che ci siamo e che mi dice buona live. Grazie Anna. Grazie. Aspetto solo un paio di minuti per vedere se qualcuno dà segni di vita. E poi fatemi sapere anche se si sente bene, se c'è un buon livello di audio. Grazie Enrico, grazie. Fatemi sapere se l'audio è buono. Grazie. Grazie a tutti. Vediamo. Allora, c'è qualcuno che mi ascolta. Si sente bene? Mi sapete dire qualcosa? Allora, aspettiamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo. Quindi, chi c'è c'è. Allora, vedo che ci sono già un po' di persone. Diciamo i canonici cinque minuti teatrali prima di iniziare la nostra lettura. Se qualcuno mi dà un cenno, mi scrive nella chat se si sente bene, se c'è una buona acustica, perché ovviamente io non me ne rendo conto. Direi che... Adesso facciamo un conto alla rovescia, manca un minuto all'inizio della nostra lezione. Allora, tutti voi sapete che con questo primo incontro del Cerchio Firenze 77, della lettura dell'insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77, che io vi faccio e che è anche così un pochino commentata delle cose che leggiamo, viene ospitata all'interno di LUX, che è l'Università della Conoscenza, che è un'iniziativa voluta da Anna Tamburini-Torre, e è ospitata all'interno di questa pagina, appunto Focus 3.0, il mistero della vita. E con oggi riprendono queste letture del Cerchio Firenze 77, che abbiamo interrotto a giugno, quindi un po' di tempo fa. L'interruzione è stata lunga, c'è ancora qualche problemino per quanto riguarda l'organizzazione del calendario, che prenderà un avvio più regolare con l'inizio del nuovo anno. Però sappiamo già che ci sarà una successiva lettura a questa, il 20, venerdì 20, non alle 21.30, come avviene stasera, ma alle 15. E poi ci sarà di nuovo una diretta serale alle 21.30 l'11 di dicembre, e seguirà come ultima di quest'anno, il 18 dicembre, una diretta alle 15.00, sempre di venerdì comunque. Da gennaio dovremmo avere una maggiore regolarità negli appuntamenti, cioè saranno ogni due settimane, una volta alle 21.30 e una volta alle 15.00. Tutto questo lo dobbiamo all'organizzazione molto impegnativa, e per cui le dobbiamo ringraziamento ad Anna Tamburini-Torre, che ha preso molto a cuore questa iniziativa che ritengo sia preziosa. Direi che noi cominciamo stasera avendo concluso la prima parte, la parte introduttiva del capitolo precedente, era dedicato ai piani di esistenza, come vi ricordate. Io, quello che sto leggendo, è il primo volume dei libri del cerchio Firenze 77, libri che sono stati proprio costruiti dai maestri del cerchio, che hanno riunito in maniera organica le lezioni che hanno svolto nel corso di quasi 38 anni di vita di questa esperienza eccezionale, che è stata l'esperienza del cerchio Firenze 77. Questo è il primo volume, che si chiama Dai mondi invisibili, e noi riprendiamo esattamente la lettura dal capitolo che inizia a pagina 155, intitolato Evoluzione, cioè entriamo dentro un argomento centrale dell'insegnamento del cerchio Firenze 77. Siamo al primo volume, quindi, come abbiamo visto per il precedente, sui piani di esistenza, stiamo, come dire, gettando le basi di quelle lezioni molto importanti che verranno con il secondo volume, dove sarà fondamentale avere chiare queste basi sulle quali ci muoviamo adesso con la lettura. C'è una piccola presentazione all'inizio di questo capitolo, che è una presentazione, un cappello preparato da chi ha fatto l'editing, diciamo, del volume, di cui io salto a pie pari la prima mezza pagina per leggere solo quella cosa che ci interessa capire prima di leggere proprio le parole dei maestri. In questa piccola breve introduzione si parla del concetto di vita e si spiega come il concetto di vita si sovrapponga in realtà a ricoprire proprio per intero il concetto di esistenza. Dicono qua, lungi dal cadere in un genericismo panteistico, o peggio, magico-animistico, questo concetto sottolinea un'omogeneità di base dell'esistente, la quale, omogeneità di base, costituisce indispensabile, premessa ad una comprensione il più possibile ragionevole del fenomeno evolutivo. Questa è una presentazione leggermente farraginosa. Quello che si vuol dire è che ciò che viene presentato, che andremo a leggere adesso, è qualche cosa che si presenta a noi in maniera molto graduale e ragionevole per permetterci di entrare dentro gradatamente a questo argomento che in realtà è molto complesso, perché l'aspetto dell'evoluzione è proprio centrale nell'insegnamento del cerchio Firenze 77. Passo quindi, salto direttamente questa breve introduzione e vado a leggere le parole dei maestri che iniziano lì da pagina 156. Chi ha il libro sotto mano vede che comincia con questo paragrafo che è intitolato Definizione di vita. In natura, dice-si vita quel fenomeno spontaneo atto a manifestare dei centri di sensibilità e di espressione. centri di sensibilità e di espressione. Guardate, mi soffermo solo un istante su questo termine, perché centro di sensibilità ed espressione ha un... nel linguaggio dei maestri, diciamo, ha un significato molto preciso. Centro di sensibilità ed espressione, probabilmente in più avanti troveremo anche le spiegazioni di questi termini, e lo dovremmo distinguere, andando più avanti nella lettura dell'insegnamento, da centro di coscienza e di espressione. Centro di sensibilità e di espressione riguarda un determinato aspetto dell'evoluzione, un certo livello evolutivo, dove ciò che vive ha una sensibilità per percepire gli elementi della vita, e esprime se stesso, anche grazie a questa sensibilità. Centro di coscienza ed espressione descrive, invece, descriverà un livello di coscienza maggiore, un livello di evoluzione maggiore, dove è più presente una coscienza che può riflettere su se stesso. e quindi parleremo di un centro di coscienza e di espressione in maniera specifica quando tratteremo l'aspetto della vita da uomo. Quindi, riprendo, in natura dice si vita quel fenomeno spontaneo atto a manifestare dei centri di sensibilità e di espressione. Il fenomeno vita è regolato e determinato da precise leggi, identiche per tutti gli individui appartenenti ad una stessa specie. In seno all'uguaglianza della specie, il grado di mente manifestantesi, pur essendo parallelo e correlazionale alle caratteristiche della specie, mostra una personalità distinta anche nelle forme di vita strutturalmente meno organizzate. Quindi, diciamo che in seno all'uguaglianza di una specie si manifesta le leggi che riguardano la manifestazione di quella particolare specie sono uguali per tutti, ma c'è una distensione rispetto alla particolare personalità che si può incontrare anche nelle forme di vita meno strutturate, strutturalmente meno organizzate. Quindi vedremo la differenza prendendo il mondo delle piante e il mondo degli animali, vedremo, per esempio, prendiamo il mondo degli animali, ed è ovvio che vedremo un'importante differenza tra insetti, animali che vivono, non so, in un gregge o in un branco, e invece animali che interpretano la loro vita in maniera unitaria, cioè con una loro autonomia rispetto alla specie di appartenenza. Quelle leggi che rendono possibile la vita limitano l'individuo, ma è da questa limitazione che la mente si aguzza e organizza. Qui si sta dicendo già una cosa importante, quando poi noi andremo avanti nel corso dell'insegnamento ci accorgeremo come queste cose che alla prima lettura sono molto immediate, sono molto facili, in realtà nascondono dentro semi di riflessione per altri livelli che incontreremo più avanti. Per questo io forse mi soffermerò un po' più spesso delle letture che ho fatto precedentemente. Qui si dice che queste leggi che regolano la vita, per esempio, di una pianta o di un animale sono delle leggi che lo limitano, limitano la sua espressività. una pianta non può che stare dove sta senza muoversi, c'è una limitazione in questo, così come un animale, a seconda dell'animale che prendiamo in considerazione, ha i suoi limiti. Questi sono i limiti che vengono imposti dalle leggi che descrivono quella specie particolare. Ma quei limiti sono proprio quelli con i quali, confrontandosi l'animale o la pianta o chi altro, si deve confrontare e confrontandosi con quei limiti qui si dice aguzza dice aguzza e organizza la mente. Cioè quella parte che noi chiamiamo mente siamo abituati a considerarla per l'uomo la mente, ma c'è una mente anche istintiva, c'è una mente che è molto diversa da quella che pensiamo per un essere umano, che in qualche modo organizza se stessa partendo da questi livelli evolutivi così elementari. Vita e mente dice il maestro sono inscindibili, l'una è veicolo dell'altra, ovvero la vita porta con la sua espressione fatta di limiti per qualsiasi individuo porta l'individuo a confrontarsi con questi limiti e a organizzare sviluppare migliorare crescere nella mente e crescendo nella mente si organizza un tipo di vita sempre più complesso. Tale collegamento genera uno scorrere che visto nella sua immediatezza si dice trasformazione ma in senso più compiuto evoluzione. Questo perché vita in senso assoluto è intrinseco movimento ed estrinseca trasformazione intrinseco movimento ed estrinseca trasformazione il movimento interiore è quello generato dal confronto con la vita e quindi è un movimento interiore che si attiva confrontandosi con la vita da questo movimento interiore si genera qualche cosa di esteriore che è la trasformazione ogni problema ogni aspetto che qualsiasi essere vivente deve sperimentare lo porta a cogliere tutte le sfumature di quell'aspetto con il quale lui sperimenta e a superarlo a superarlo e quindi a crescere a mandare avanti questo processo evolutivo che è fatto di movimento e di trasformazione quindi dice il maestro tutto ciò che allo stato naturale si muove per comporre un ciclo vive la stessa materia definita inanimata vive attenzione questa è un'affermazione importante tutto ciò che allo stato naturale si muove per comporre un ciclo vive non c'è movimento senza vita e la vita è fatta di movimento e il movimento genera trasformazione trasformazione fa parte del processo evolutivo la stessa materia definita inanimata vive e vedremo come nel creato ecco qui ogni tanto noi troveremo soprattutto all'inizio in questo primo volume troveremo dei termini che sono i termini a cui eravamo e in certa misura siamo ancora oggi abituati dalle nostre religioni dagli insegnamenti che abbiamo avuto all'interno delle nostre religioni quindi si parla per esempio di creato che ci rimanda immediatamente a tutto ciò che esiste a tutto ciò che prima non c'era e poi in qualche modo è diventato parte dell'esistente successivamente verranno puntualizzati meglio questi termini adesso lo prendiamo così in maniera molto generica nel creato che poeticamente può essere definito un oceano di vita possiamo riconoscere due forme vitali l'una definibile vita macrocosmica vita macrocosmica l'altra vita microcosmica vita macrocosmica e vita microcosmica cominciamo qui a fare delle distinzioni che dovrete poi cercare di tenere un po' a mente perché andando avanti con le lezioni successive questi piccoli punti di riferimento ci saranno molto utili l'una cioè la vita macrocosmica è la vita che risale essendone collegata e dipendente al centro ideale del cosmo l'altra è la vita degli organismi che prendendo di questa materia anima e compone delle forme le quali sono collegate a delle individualità o microcosmi che cosa ha voluto dire questo piccolo paragrafo ve lo rileggo intanto perché magari non tutti avete il libro sotto mano per ripercorrerlo allora la vita macrocosmica è la vita che risale essendone collegata e dipendente al centro ideale del cosmo l'altra è la vita degli organismi che prende cioè l'altra è la vita microcosmica è la vita degli organismi che prendendo di questa materia anima e compone delle forme le quali sono collegate a delle individualità o microcosmi allora intanto cos'è la vita macrocosmica si dice qua la vita macrocosmica è tutto ciò che esiste tutta la materia che esiste che risale al centro ideale del cosmo si intende con questo dire che il cosmo è l'ambiente chiamiamolo così devo usare per forza dei termini che sono limitati ma l'ambiente cosmico non è da intendersi come un ambiente materiale fisico come il luogo fisico nel quale noi viviamo e ci muoviamo ha più a che vedere con l'ambiente dello spirito della coscienza il quale poi si riveste di materia e prende delle forme questa coscienza questa materia che è ovunque che permea qualsiasi luogo e che dà vita anche agli universi che conosciamo noi e anche allo spazio alla materia nella quale noi ci troviamo a muoverci e a sperimentare l'esistenza da uomini questa particolare materia è in realtà l'espressione di questa vita macrocosmica noi stessi siamo fatti di questa materia i nostri corpi sono fatti di materia macrocosmica tutto quanto esiste è fatto di materia macrocosmica dopodiché dice la vita microcosmica è invece la vita di organismi che prendendo di questa materia per esempio io ho un corpo questo corpo è fatto della materia macrocosmica ma è organizzata questa materia macrocosmica in modo tale da costituire un corpo e dare la possibilità a questo corpo di esprimere un'esperienza in questo senso questo corpo e questo lui lo chiama comporre delle forme le quali sono collegate a delle individualità o microcosmi intende dire che ogni ogni cosa che vive dentro il cosmo composto da tutta questa materia macrocosmica ogni cosa che vive dentro questo cosmo è una materia è in realtà che vive è collegato a un microcosmo per cui un filo d'erba è collegato al microcosmo ognuno di noi che stiamo seguendo questa lettura è collegato al microcosmo ognuno di noi che è al suo esatto preciso momento evolutivo nel suo percorso evolutivo è collegato al microcosmo un animale è collegato al microcosmo un insetto una rosa un fiore cioè il microcosmo è è un aspetto in cui si enuclea una parte di questa materia macrocosmica la materia nella sua costituzione ultra atomica è la forma cementata è composta dalla vita macrocosmica la vita macrocosmica come dire nutre rende viva tutta la materia esistente perciò c'è la materia macrocosmica che è l'espressione della vita macrocosmica la vita macrocosmica è il pulsare di tutto il cosmo attraverso le materie le forme gli individui i microcosmi e via dicendo mentre dice la forma dell'organismo vive di vita microcosmica perciò c'è possiamo immaginare come un enorme polmone che respira che è il respiro del cosmo e dove si muove tutta la materia del cosmo la materia del cosmo è l'espressione di questa vita che respira dentro il cosmo all'interno di questa vita c'è la grande vita macrocosmica c'è la vita microcosmica a cui ognuno di noi e ogni essere vivente in ogni forma in ogni sua espressione fa capo la vita dei microcosmi per cui pensatevi come microcosmi la vita che voi percepite in voi fa capo a un microcosmo all'interno del grande respiro della vita macrocosmica della quale viene enucleato una piccola parte per esprimere un frammento di questa vita macrocosmica attraverso l'esperienza di un microcosmo che ha poi un suo corpo ed è nella sua vita così come la conosciamo noi nella vita di Enrico e di Patrizia di Giovannella di Nicola ecco e anche di Elga come la vita microcosmica ha un ciclo così la vita macrocosmica ne ha uno proprio allorché la vita microcosmica ha cessato il proprio ciclo il legame tra la forma e il microcosmo viene meno e accade una disorganizzazione della forma un ritornare della materia a uno stadio elementare stiamo parlando del fatto che le vite come le conosciamo noi sono vite collegate che esprimono un microcosmo e lo esprimono attraverso la vita così come la conosciamo noi per un essere umano la sua vita ha un inizio e una fine durante con l'inizio si inizia proprio dall'inizio cioè c'è una cellula che si forma per esempio nella pancia di una mamma si forma un essere vivente che cresce 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 poi a un certo punto si affaccia proprio alla vita con un piccolo corpo che organizza sempre meglio questa materia tratta dalla vita macrocosmica dalla materia della vita macrocosmica e crescendo si trasforma via via e poi a un certo punto giunge a conclusione cioè quella esperienza si conclude in quel momento quella materia che è stata necessaria per costituire quel corpo e permettere quindi l'espressione del microcosmo a cui quel corpo faceva riferimento quell'espressione di quel microcosmo attraverso quel corpo si interrompe quella forma quell'espressione non il microcosmo si interrompe solo quella forma che è stata che ha avuto la sua durata nella vita come la conosciamo noi perciò già da questo noi stiamo vedendo che si sta parlando di un significato della vita molto più ampio di quello che siamo abituati a pensare intanto perché continua l'esistenza del microcosmo a prescindere dal fatto che si esprima o no attraverso quella forma che invece è peritura finisce per cui come tutte le cose che noi conosciamo da una parte questa dall'altra c'è questa grande vita questo respiro della vita del cosmo e la materia che si è organizzata per costituire quel corpo è maturata si è trasformata nel tempo attraverso il movimento di cui parlavamo prima il movimento della vita lo trasforma il corpo invecchia poi scompare quella materia si disorganizza e torna ad essere materia macrocosmica che è espressione della vita macrocosmica allorché la vita microcosmica ha cessato il proprio ciclo il legame fra la forma e il microcosmo viene meno e accade una disorganizzazione di quella forma un ritornare della materia a uno stadio elementare allo stesso modo allorché un cosmo ha compiuto il suo ciclo avviene un ritornare della cosiddetta materia e di tutto ciò che sta alla radice di questa materia allo stadio elementare e la forma cosmo si disorganizza quindi ciò che è stato forma quindi espressione proprio formale del cosmo di cui per esempio miriadi di universi fanno parte di un cosmo questa cosa immensa di cui non conosciamo un frammento piccolissimo non conosciamo neanche il minuscolo universo nel quale noi viviamo che è pieno di miliardi di stelle e di pianeti noi conosciamo un unico microscopico pianeta nel quale sperimentiamo la nostra vita tutto questo a un certo punto che è la forma della vita macrocosmica questa materia macrocosmica come giunge a conclusione l'esistenza di un corpo umano che ha finito la sua esperienza così quando si conclude un'esperienza evolutiva di un cosmo viene riassorbita questa materia questa forma viene riassorbita all'interno della sua nella sua dimensione elementare così come noi come dicevano per tornare alla religione di cui si parlava prima noi torniamo ad essere polvere cioè qualcosa di molto elementare che non sembra avere più esistenza in sé allo stesso modo questa materia macrocosmica torna al suo stadio elementare un cosmo è costituito dice il maestro da molti universi i quali sono formati da molti sistemi solari non rimane invariato in questi elementi siderali per tutto il ciclo di manifestazione ma fluttua in tal senso e si trasforma quindi anche il cosmo ha trasformazione un pianeta il quale abbia terminato il proprio ciclo di vita cede la materia che lo componeva ad altri pianeti così come un organismo vivente allorché la vita che lo animava cessa cede la materia che lo componeva ad altri organismi nel nostro caso possiamo pensare per esempio a quando un corpo ora si usa molto la cremazione ma prima quando non si usava e si mettevano i corpi sotto terra c'era una decomposizione c'erano altri elementi vitali che si nutrivano di questa materia ma non può mai accadere questo è un punto essenziale fondamentale non può mai accadere che l'individualità nel senso spirituale possa cedere ciò che la compone ad altre individualità e qui entriamo nella difficoltà di apprendere nuovi termini che usano i maestri l'individualità l'individualità l'approfondiremo un pochino più avanti per cui potrebbe anche essere prematuro parlarne ma è qualche cosa che riguarda la sostanza dell'esperienza per esempio di una persona che ha vissuto la sua vita e durante la sua vita ha fatto tutta una serie di esperienze ha tutta una serie di vissuti che sono andati ad arricchire vi ricordate nel capitolo precedente quel corpo acasico si diceva che il corpo fisico il corpo astrale il corpo mentale sono tutti corpi che piano piano dopo il trapasso entrano in quella fase in cui piano piano si si scompongono no? diventano sempre più trasparenti più sottili e e piano piano scompaiono scompaiono ma cedono tutta la ricchezza della loro esperienza invece a un unico corpo che non scompare mai ma si arricchisce di tutta questa esperienza che è il corpo acasico il corpo acasico nelle sue varie esperienze nelle ricchezze che assume e quindi nel crescere attraverso numerose esperienze il corpo acasico lo possiamo in questo momento per semplicità definire l'individualità di riferimento perciò varie esperienze esistenziali fanno capo a una individualità e dice il maestro come non come accade per la materia che una volta che la forma viene abbandonata cioè che la vita abbandona una forma questa forma cede la sua materia ad altri organismi e quindi ad altre forme non accade invece che l'individualità ceda qualcosa di sé o tutto in parte a un'altra individualità questo non accade più avanti vedremo il motivo per cui è importante dire questo così con me non potrà mai avvenire che la materia la quale compone un cosmo possa passare da questo cosmo ad altri cosmi anche questo è un passaggio che non ci può essere è come se noi finché parliamo di materia possiamo parlare di tornare a uno stadio elementare cedere la materia ad altri organismi ma quando parliamo sul piano più spirituale allora non c'è nessuna cessione lì perché è comprensibile che la forma possa cambiare che la forma possa avere un inizio e una fine ma non la coscienza acquisita non lo spirito non la dimensione spirituale dell'individuo che invece compone proprio la come dire il tessuto più vero più profondo più essenziale dell'esistenza del cosmo possa mai cedere se stesso ad altri cosmi e ciò perché la vita macrocosmica cementa la materia e l'anima nella sua composizione ultraatomica mentre la vita microcosmica cementa e anima la forma quindi vedete che il microcosmo è collegato a una forma che esprime se stessa nella vita la vita macrocosmica crea da vita sostiene la materia e anima la composizione ultraatomica delle materie ma vediamo per meglio spiegarci di fare degli esempi allora un oggetto intanto do un'occhiata a che cosa mi sta a tutti i saluti un oggetto ha una forma ma non vive di vita microcosmica un oggetto ha una forma questo computer che sto usando io ha una forma ma non vive di vita microcosmica vive che cosa la materia che lo compone e vive di vita macrocosmica come tutto quanto quello che esiste che voi vedete intorno a voi vive di vita macrocosmica un pianeta ha una forma ma non vive di vita microcosmica vive di vita macrocosmica la materia che lo compone allorché il pianeta ha cessato di essere sede di vite microcosmiche cede la materia che lo compone ad altri pianeti ma la materia in sé non è per niente interessata al nuovo stato seguita a vivere indisturbata di vita macrocosmica un pianeta quindi non vive di vita microcosmica in quanto non manifesta una forma di vita tale è sede il pianeta è sede di vite microcosmiche e il suo ciclo fa parte del piano di evoluzione generale che la vita macrocosmica svolge e realizza il fatto che la materia possa avere una forma piuttosto che un'altra e passi da un organismo manifestante una vita microcosmica ad un altro manifestante un'altra vita microcosmica non interessa per niente la vita macrocosmica la quale cementa ed anima la materia nella sua composizione ultraatomica come dire che c'è questo grande respiro di vita del cosmo che è la vita macrocosmica nella quale poi si che pullula all'interno di sé di un altro tipo di vita che è la vita microcosmica che non interessa minimamente la materia organizzata dalla vita macrocosmica perché che abbia una forma ne abbia un'altra tutto questo non interessa la vita macrocosmica non interessa per niente la vita macrocosmica la quale cementa ed anima la materia nella sua composizione ultraatomica ancora un esempio nel vostro organismo accadono i normali processi di ricambio sono cellule che muoiono e altre che vengono prodotte ebbene il vostro organismo non è disturbato anzi questi processi fanno parte della vita stessa dell'organismo l'organismo un fegato è costituito di cellule queste cellule cambiano alcune alcune muoiono alcune si degenerano invecchiano scompaiono altre nuove sostituiscono quelle vecchie da un certo punto della vita in poi c'è una maggiore depauperamento fisico e l'organismo non ce la fa produrre come faceva prima con grande vivacità cellule nuove per cui il corpo piano piano invecchia ma tutto questo all'organismo non gli cambia non se ne accorge neanche quello continua ad essere un fegato il cuore continua ad essere un cuore un corpo umano nel suo insieme non si accorge di tutti questi processi di cambiamento è ciò che è semplicemente e tutti questi cambiamenti fanno parte della vita e vengono percepiti come vita non come trasformazione di un elemento in un altro quindi tutto dice il maestro tutto vive in sostanza il cosmo non è che un organismo immenso quanto immenso è quasi è quasi impossibile pensarlo perché se pensiamo che un cosmo è costituito da innumerevoli universi innumerevoli innumerevoli vuol dire che non si possono contare non si possono neanche contenere nella nostra mente innumerevoli universi nel nostro universo ci sono innumerevoli mondi soli sistemi solari pianeti che ci girano intorno e via dicendo di questo noi conosciamo un solo piccolissimo sistema solare che è quello del nostro sole con quei pochi pianeti che ci girano intorno e di questi pianeti ne conosciamo uno solo che è la nostra terra per cui il cosmo non è che un organismo immenso prodotto in manifestazione di una vita nella quale vi sono altre vite che sono espressioni correnti riflessi di che cosa dell'unica vita questo è bellissimo che c'è questo questa immensità incontenibile della nostra mente che vive che pulsa 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 e noi all'interno di questo facciamo la nostra minuscola veramente microscopica è esperienza intensissima per quello che è ma microscopica dentro questa immensità e noi siamo i minuscoli riflessi di quell'unica vita nel libro l'unica vita unica è scritto con la maiuscola tendendo proprio questo pulsare meraviglioso della parte spirituale dell'esistenza dagli esperimenti di laboratorio l'uomo può essere tratto in inganno può credere di poter creare la vita non è così la vita microcosmica è bellissima la vita microcosmica si manifesta ogni qualvolta trova l'ambiente adatto e quando l'uomo crede di aver creato la vita non ha fatto altro che creare l'ambiente adatto alla manifestazione della vita niente è morto ma tutto vive e non esiste materia che si possa far vivere siccome tutto è sempre in vita quest'unica vita è sempre vivente pulsante sempre e la vita macrocosmica è perennemente viva sempre viva non cessa mai di vivere allora l'uomo quando fa un esperimento e crede di avere creato la vita ha solo creato le condizioni perché quella vita che vive sempre si possa manifestare nella forma che l'uomo ha creato per sperimentare quindi non ha creato la vita ha creato una condizione che viene abitata da un microcosmo che ha le sue radici nella più grande vita macrocosmica dalle immensità siderali alle immense sottigliezze della materia ed oltre la vita è la vita che tutto muove e fa palpitare quella vita che è principio e fine dell'amore principio e fine che si può leggere come l'inizio e la fine oppure come come principio principio originario e fine come scopo della vita principio e fine dell'amore quell'amore che è principio e fine della vita la vita è principio e fine dell'amore l'amore è principio e fine della vita mamma mia le due forme di vita microcosmica e macrocosmica fuse in un unico amplesso sono ben sintetizzate nel sigillo di Salomone e qui il sigillo di Salomone non so vi faccio vedere l'immaginetta è questa qua eccolo là si vede bene ecco e si legge anche che A è il logos B il piano a casi cioè vedete che c'è una parte sono come due triangoli che si incontrano formando una stella a sei punti questo è il sigillo di Salomone è come dalla parte dall'alto scende un triangolo con la punta rivolta verso il basso e dal basso sale verso l'alto un triangolo con la punta rivolta verso l'alto e quando si incrociano formano questo che è chiamato il sigillo di Salomone la materia come elemento del piano fisico vive di una vita macrocosmica che si trasformerà alla fine dell'emanazione e qui l'emanazione è un termine un po' particolare un termine che ci è una versione diversa e più in linea con quello che stiamo cercando di studiare con l'emanazione è un'altra versione della creazione la creazione è qualcuno dal nulla creò tutto quello che c'è quello che si dice qua invece è una cosa diversa è che da sé in sé da questa dimensione spirituale da questa vita macrocosmica c'è l'emanazione cioè affiora prende forma una vita palpabile una vita materiale la vita per esempio della materia come elemento del piano fisico quando una individualità e quindi con individualità bisogna pensare a una serie di esperienze umane l'individuo lo possiamo pensare come un essere vivente questo individuo fa capo a una individualità perché ci sono state più esperienze di vari individui riunite fra di loro sento il volume un po' basso ho messo le cuffiette ma è lo stesso forse sì perché gli altri mi dicono che va bene cosa vi stavo dicendo ah sì vedete qui dice quando un'individualità cioè un'individualità significa che al capo dell'individualità fanno capo alcune esperienze esistenziali diciamo alcuni individui adesso la mettiamo lì così in maniera un po' più semplificata poi l'individualità è una cosa che ha preso prenderà molto corpo è una parte corposa dell'insegnamento capire bene cos'è l'individualità quando una individualità organizza un veicolo o corpo e lo rende strumento della propria evoluzione prende dalla materia della materia del piano la quale seguita a vivere di vita macrocosmica e la rende sede di una vita microcosmica la quale cessa quando l'individuo abbandona il veicolo o corpo è un altro modo di dire quello che abbiamo detto prima quindi viene organizzato un veicolo o corpo vi ricordate abbiamo visto il corpo fisico il corpo astrale il corpo mentale è una progressiva organizzazione di materia dal più sottile al più corposo fino ad arrivare a questa parte più corposa che è quella della materia il corpo materiale così come noi lo sperimentiamo questa materia qua diventa sede di una individualità che rende proprio strumento quel corpo per vivere un'esperienza esistenziale utile alla propria evoluzione all'evoluzione di quella individualità quindi prende la materia di un piano quella materia che viene presa cioè il corpo che viene organizzato come il corpo di Enrico per esempio non cessa di vivere di vita macrocosmica vive anche di vita microcosmica cioè esprime un microcosmo e fa capo a una individualità questo corpo poi a un certo punto viene abbandonato perché finisce l'esperienza esistenziale il veicolo il corpo viene abbandonato e quindi è come se l'individualità avesse che ne so avesse salito quel gradino che doveva seguire salire e gli serviva proprio quel corpo per salire quel gradino evolutivo salito quel gradino evolutivo quel corpo non serve più non serve più quell'esperienza esistenziale che c'è stata che ha dato la ricchezza utile al microcosmo e quindi all'individualità per procedere nel suo percorso evolutivo con la manifestazione di un altro corpo l'evoluzione consiste nella purificazione dei veicoli e nel procedere al risveglio del sé spirituale qui sono due righe in cui si dice tantissimo l'evoluzione consiste nella purificazione dei veicoli allora letto così a suo tempo lasciava un po' come dire il tempo che trovo un'affermazione del genere la si comprende la si accetta in realtà purificazione dei veicoli vuol dire manifestazione di veicoli sempre più maturi maturi dal punto di vista della coscienza e quindi corpi fisici corpi astrali corpi mentali sempre più raffinati raffinati attraverso l'essere passati attraverso tante esperienze evolutive cioè scendere dentro l'agone della vita e confrontarsi dentro la vita significa appunto questo significa come si diceva all'inizio attraverso il confronto con i propri limiti superarli ad ogni vita il superamento di alcuni limiti che ci si pongono il superamento di questi limiti comporta una maturazione della coscienza la coscienza che si manifesta successivamente è una coscienza più matura e quindi avrà a sua disposizione strumenti più raffinati per salire gradini successivi da cui nuova esperienza arricchisce quella coscienza che si matura e procede nel suo percorso evolutivo questo l'evoluzione consiste nella purificazione dei veicoli e nel procedere al risveglio del sé spirituale evoluzione per l'individuo significa sviluppo della coscienza individuale ed è di natura personale ed interiore quindi estremamente difficile a comprendersi questo è una cosa che riguarda singolarmente ognuno di noi se parliamo a livello umano è proprio il confrontarsi con i nostri limiti vivere la nostra vita apprendere lezioni di superare difficoltà aprirsi alle necessità degli altri e via dicendo ci fa maturare nella coscienza e quindi ci pone nuove sfide davanti ed è di natura personale nessuno può comprendere il percorso evolutivo di un'altra persona l'evoluzione interessa tutti i piani di esistenza dell'individuo interessa il piano spirituale in quanto deve comunicare alla mente la sua natura divina quello mentale in quanto la mente deve essere capace di ritenere queste come dire quando si dice che il piano il piano di esistenza spirituale dell'individuo deve comunicare alla mente la sua natura divina vuol dire che quando una persona ha compiuto un certo percorso evolutivo e quindi la sua coscienza si è maturata è quella coscienza che si esprime attraverso il nuovo corpo che abita quella coscienza ed è una coscienza ricca di esperienza quindi trasmetterà alla mente dell'individuo che si è incarnato quel grado di coscienza e di evoluzione poi dicevamo quello mentale perché la mente deve essere capace di ritenere questo cioè cosa vuol dire ritenere questo vuol dire che la mente che si forma deve essere capace di contenere la maturità di questa coscienza che chiede a quell'individuo attraverso l'uso della mente di esprimere se stessa quindi deve essere anche quella una mente che si è evoluta che si è evoluta al punto tale da poter contenere quella coscienza poi c'è quello astrale in quanto si deve desiderare altruisticamente cioè più che matura la mente è più che si guarda verso gli altri i desideri riguardano più il bene degli altri che non il proprio bene che è invece un atteggiamento del tutto egocentrato egoistico quando la coscienza è poco matura poi c'è quello fisico in quanto la forma fisica deve avere la possibilità di esprimere tutto questo complesso l'evoluzione necessariamente ammette la scala evolutiva la quale non denigra chi è minimo rispetto ad essa perché non è condannabile il fiore che ancora non è sbocciato qui via tutti i sensi di colpa e tutto soprattutto tutto il giudizio che noi abbiamo verso altre persone che ci sembrano addirittura poco umane la scintilla divina staccandosi dall'eterno fuoco questa è un'immagine poetica per venire ad animare una forma fisica attraversa tutti i piani di esistenza rivestendosi di ciascuna materia allora qualcuno mi scrive mi dice se si sente o non si sente perché qualcuno qua mi dice che non sente e mi dispiace vorrei capire se è così mi scrivete qualcuno per dirmi se si sente speriamo di sì mi auguro che si senta perché come è ben ritrovato non si sente scusate ma non sento buonasera a tutti che succede anch'io sento basso il volume io sento benissimo provate con le cuffie dice lei buonasera si con le cuffie non sento neanche con gli auricolari ma provate ad alzare il volume del vostro computer perché ma sento che cosa posso fare va bene dice esci dalla diretta e riprendi ma lo dice a lei non a me spero va bene allora amici vi leggo ancora un capitoletto qua che è molto bello che è molto bello questa cosa della scintilla divina che staccandosi dall'eterno fuoco per venire ad animare una forma fisica attraversa tutti i piani di esistenza rivestendosi di ciascuna materia che cosa vuol dire questo quando si parla di scintilla divina si parla proprio come del del seme essenziale del seme di base da cui poi si genera tutto quanto è come se ci fosse un nucleo un nucleo della natura divina che si riveste di tutte le materie sempre più dense fino a quella del corpo fisico è come dire che al nucleo al centro di ognuno di noi al centro della nostra stessa coscienza al centro del microcosmo che siamo rivestito che ha preso una forma per esprimere quel microcosmo nella vita al centro di questo c'è questa scintilla divina che vuol dire proprio un seme della stessa natura della coscienza assoluta e dice giunge così questa scintilla divina al piano fisico rivestendosi anche di questa materia cioè organizzando la più semplice forma di vita sul piano fisico il cristallo e dov'è nel cristallo la vita? il processo della cristallizzazione è la manifestazione di questa vita cioè nel momento in cui si forma il cristallo proprio quel momento che si può immaginare proprio come una scintilla un brillare è un istante in cui si forma il cristallo il cristallo di neve il cristallo di una di una di una gemma quando si forma un cristallo in quel momento della formazione del cristallo in quel momento c'è vita dopo diventa un oggetto inanimato il cristallo ma in quel frammento lì c'è la vita e quindi c'è la scintilla divina che anche lì pulsa proseguendo in questo organizzare avviene che comincia a vibrare la materia del desiderio l'astrale il mutare delle stagioni la siccità e le piogge in una pianta fanno sì che sorga il primo barlume di desiderio e sensazione è chiaro che usiamo dei termini per cercare di capire qualche cosa che è molto difficile per noi da accogliere cioè capire è ovvio che la pianta non desidera ma in un certo senso sì perché se sente siccità e ha bisogno di acqua quel bisogno lo possiamo chiamare il desiderio della pianta o la sete o la sete della pianta chiaro che la pianta non ha sete non so ne che cos'è la sete non ha una mente organizzata per dare nomi alla sua esperienza ma sicuramente ha una forma di desiderio cioè di avere l'acqua che è il nutrimento che le serve il desiderio e la sensazione sono bene sviluppati negli animali cioè c'è stato tutto un processo per cui dalle piante passando poi al mondo animale i vari microcosmi si sono costituiti sono maturati la coscienza si esprime ad un livello un po' più maturo e lì il desiderio e la sensazione sono più sviluppati che nelle piante ovviamente e negli animali comincia a vibrare anche la materia mentale poiché si cerca il modo di assecondare il desiderio e la sensazione cioè nel momento in cui c'è sia la sensazione che ha la pianta di siccità sia la sensazione che il desiderio sono un po' più sviluppati ecco che comincia a costituirsi la materia del veicolo mentale comincia a costituirsi per cercare di soddisfare quei desideri e quelle sensazioni che l'animale prova in alcuni animali superiori questa mente desiderio come viene definita è già abbastanza sviluppata da formare quasi un individuo cioè ci può essere una dimensione quasi individuale in certi animali cosiddetti superiori infatti due cani della stessa razza età e discendenza posti nelle identiche condizioni di pericolo reagiscono diversamente perché è un fattore individuale anche qua quindi ognuno avrà come dire il microcosmo che si manifesta attraverso l'uno di questi animali è un microcosmo che ha maturato il suo grado evolutivo a un certo livello e nell'altro nonostante siano stessa razza stessa discendenza non c'entra niente questo questo è ciò che viene prima della razza della discendenza della della specie a cui appartengono e anche del modo come sono stati allevati è semplicemente che due microcosmi di diversa evoluzione che si collegano ai corpi dei due cani diversi tra di loro esprimono diversamente il proprio essere cane l'uomo è individuo perché ha questa mente desiderio fecondata come dicemmo altre volte dal terzo aspetto dell'assoluto il terzo aspetto dell'assoluto l'abbiamo già incontrato mi pare comunque vi leggo la nota del terzo aspetto dell'assoluto che c'è qui a piedi pagina e che dice allorché l'individuo attraverso molte incarnazioni nel regno animale è giunto a un certo stadio di sviluppo o di evoluzione è pronto per l'unione col terzo aspetto dell'assoluto ciò significa avere una serie di incarnazioni in forma umana le quali hanno come caratteristica quella dell'intelligenza e della coscienza durante la vita umana la mente si stacca dal desiderio e anziché assecondarlo lo soggioga cioè non è più come nell'animale la necessità di usare la mente per soddisfare quelle sensazioni e quei desideri ma è la capacità dell'uomo che ha maturato la coscienza tale per cui pur avendo desideri e sensazioni che lo chiamano lo trascinerebbe in una certa direzione avendo maturato la coscienza l'uomo è capace di sottrarsi a quel richiamo e decidere se soddisfare o meno i propri desideri e come farlo comincia così a vibrare il vero sé lo spirito che all'apogeo della scala evolutiva si unirà con la mente o anima umana divinizzando l'uomo così si svolge l'evoluzione del creato e qui è stato un primo come dire un primo contatto con alcuni segreti della nostra esistenza che spiegano bene alcune cose che ci succedono come noi ci confrontiamo con queste che cosa facciamo dei nostri corpi del nostro veicolo astrale la nostra mente che spesso ci possiede e noi facciamo fatica invece a possederla noi lo stesso vale per il nostro corpo astrale molto potente in certe situazioni quando ci lasciamo prendere proprio da alcune cose che ci trascinano dove vogliono loro è come se noi fossimo non avessimo potere su di loro mentre invece ce l'abbiamo per il fatto stesso che ci stiamo interessando a cose come queste che abbiamo letto questa sera questo significa che che ai nostri corpi attuali si è collegato qualche cosa che ha a che fare con un grado di coscienza che si apre alla conoscenza e a un livello evolutivo che permettere di riflettere su di sé e sui propri processi evolutivi e questo per noi è come dire un talento che possiamo esprimere in questa vita ed è una buona cosa utilizzarlo perché poi i talenti che non vengono utilizzati poi vanno un po' perduti nella successione dell'incarnazione ma su questo torneremo più avanti allora vedo che ci siete credo che a questo punto se c'è qualcuno di voi che vuole farmi qualche qualche domanda vuole chiedermi qualche cosa io dunque diciamo stella per esempio domanda la coscienza più evoluta porta sulla terra un corpo con un'anima e mente preparata e intelligente è così? diciamo che sicuramente una coscienza più evoluta organizza organizza per se stessa un'esperienza esistenziale e la organizza attraverso la costituzione di corpi adatti a svolgere un'esperienza esistenziale quella precisa esperienza esistenziale necessaria a fare il passo successivo nella logica successione della maturazione della coscienza la coscienza non fa mai dei salti la coscienza deve necessariamente passare attraverso tutti i gradini necessari e quindi non dobbiamo pensare che una coscienza più evoluta organizza per sé non so un corpo più bello più elegante una mente più raffinata ma per esempio faccio un esempio così per intendersi una coscienza molto evoluta potrebbe per esempio organizzare per sé un corpo di una persona non so disabile quindi con difficoltà fisiche ma capace di esprimere nonostante queste difficoltà proprio per la coscienza evoluta raggiunta capace di esprimere una un grande amore per gli altri o una capacità di reagire a questa sua condizione per essere di esempio ad altre persone e via e via e via quindi significa creare le condizioni perché avendo questa coscienza e quindi questa maturazione di coscienza dentro di sé ampia attraverso questa ampia coscienza molto matura è possibile affrontare per esempio alcuni cimenti alcune prove con un certo spirito che coscienze meno mature non potrebbero sicuramente affrontare e quindi non serve neanche che le incontrino certe prove allora qui dicono alcuni dicono si sente benissimo benissimo allora loro sentono bene mi fa piacere molto contento che sentiate dunque l'amore può tutto inizi allora con questa operazione intelligentissima di Trump poi si è scoperta tutta la vita di crimine vabbè non so quanto quanto ci possa interessare dubito che carino dubito che Trump conosca il cerchio di Firenze 77 ok allora io credo che noi ci possiamo fermare a questo punto vi suggerisco la rilettura e l'ascolto ora i miei commenti forse non sono così illuminanti e neanche così facili però io vi suggerirei anche di studiare queste pagine che abbiamo letto tra l'altro è possibile reperire queste pagine anche insomma nei libri del cerchio sicuramente il libro ve lo ricordo è dai mondi invisibili pubblicato dalle edizioni mediterranee cerchio Firenze 77 dai mondi invisibili e abbiamo letto oggi da pagina 155 perché è molto importante soffermarsi su quei punti che vi ho indicato oggi 6 11 20 perché ci servono sono dei puntelli che ci servono per andare avanti e così potete cominciare da subito a impadronirvi delle cose un po' più complesse che verranno andando avanti con i mesi in cui noi leggeremo queste cose vi ricordo che la prossima lettura sarà il 20 di questo mese alle 15 sarà una diretta sempre qui alle 15 e poi ce ne sarà un'altra l'11 di dicembre la sera alle 21.30 e poi il 18 di dicembre di nuovo alle 15 e quest'anno concluderemo in questo modo poi da gennaio avremo maggiore regolarità nei nostri appuntamenti leggete studiate perché questo che noi facciamo è sì può essere anche il piacere di passare insieme un'oretta così ma è è è un'occasione è un'occasione non perché lo passate con me intendiamoci bene non c'entra niente questo è un'occasione che si ha quella di incontrare un insegnamento come questo e poterlo in qualche modo penetrare fare proprio è un'occasione di questa vita la coscienza di ognuno di noi ci ha fornito la possibilità di avere strumenti adeguati per entrare dentro un insegnamento di questo tipo quindi è la nostra occasione questo voglio dire proprio proprio così molto sinceramente allora io vi ringrazio tutti di essere stati qua con me questa sera con voi con alcuni di voi ci vediamo sicuramente il 20 alle 15 ringrazio ancora Anna Anna Tambrini Torre e Enrico Ballantini che ci ospita che ospita l'UX che è l'università della conoscenza e ci vediamo con veramente molto 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 piacere fra un paio di settimane buonissime cose a tutti